Sarà l'attuale prefetto di Enna Giuseppa Scaduto a ricoprire la carica di prefetto di Siracusa. La nomina è avvenuta nelle scorse ore, in particolar modo ieri ad opera del Consiglio dei Ministri che colma così l'assenza del massimo rappresentante del governo in provincia dopo la destinazione in quiescenza del precedente prefetto Luigi Pizzi. La dottoressa Scaduto era stata nominata prefetto di Enna nel marzo scorso e per lei si tratta di un ritorno nella nostra città, visto che nel passato ha ricoperto la carica di vicario del prefetto e ha svolto anche le mansioni di subcommissario al comune di Augusta. Prima di Enna la dottoressa Scaduto aveva prestato servizio alla prefettura di Palermo dove ha svolto le funzioni di vice prefetto vicario coordinatore. È stata capo dell'ufficio di staff al gabinetto del Ministero dell'Interno, poi capo di gabinetto presso le prefetture di Caltanissetta e Milano, commissario straordinario al comune di Trezzano sul Naviglio e inoltre dirigente d'area in materia di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, migrazione e contrattualistica, illeciti depenalizzati e di subcommissario per il piano di disinquinamento di Gela. 57 anni, lavorata in scienze politiche, pubblicista, conigata con un figlio, Giuseppina Scaduto è la terza donna a ricoprire la carica di prefetto di Siracusa. La prima era stata a Maria Fiorella Scandurra, primo prefetto donna di Siracusa, che si insiedono il 6 agosto del 2007. Il primo settembre del 2009, invece, ha ricoperto la carica di prefetto l'attuale commissario del libero consorzio comunale Carmela Floreno.